Dalla Regione Marche arrivano stanziamenti di 80 mila euro complessivi da riversare sulla provincia di Pesaro Urbino. Stanziamenti canalizzati dal consigliere regionale Baiocchi. Spieghiamo i motivi e le destinazioni di questi stanziamenti. Sì, i motivi sono semplicemente una vicinanza, un'attenzione alla mia città, alla provincia dove sono stato eletto e che rappresento in Regione ed è un piccolo contributo su situazioni che magari i bilanci comunali o altri bilanci non riescono a coprire. Quindi ho ben pensato di riuscire a dare un contributo importante su 4-5 situazioni che ritenevo importanti. L'acquisto di mezzi per la protezione civile, una strada nel comune di Pesaro a Novilara, nella parrocchia Novilara per permettere l'accesso al campo sportivo del Novilara Calcio. Un problema ormai annoso da anni che impediva anche l'accesso ai mezzi di soccorso, quindi una cosa importante. 20.000 euro al campo parrocchiale della parrocchia di Villa Circolini, come dicevo, 15.000 euro alla protezione civile, 10.000 euro a un'associazione sportiva della Lupo per un progetto di basking, quindi di inclusione sociale sulla disabilità. Quindi tutti i piccoli interventi che però dimostrano un interesse da parte delle Regioni Marche, perché chiaramente i soldi sono della Regione Marche e non sono i miei, però destinati alla città a cui tengo particolarmente e alla provincia a cui rappresento la Regione Marche.